Alle 9.05 di oggi 24 febbraio vi regalo questa bella panoramica cari amici di Facebook dal lungomare spiaggia di Sant'Alessio Siculo. La giornata è un po' ventosa, sullo sfondo ci sono nuvole che provengono da nord, però ancora nella parte marina il cielo è abbastanza sgombro, limpido. Adesso volgiamo lo sguardo verso la Calabria e piano piano, come di consueto, giriamo la nostra telecaverina a 360 gradi, proprio a ore 12. Ci sono i raggi di sole che colpiscono il mare con questo bellissimo effetto e piano piano ruotiamo la nostra telecamera verso il simbolo di Sant'Alessio che ovviamente è il suo capo, che vedete è quasi al centro dell'inquadratura, in alto c'è il castello che fino al periodo della guerra ospitò anche un carcere. Ed ecco piano piano ruotiamo verso l'interno, ancora si vede il lungomare, la parte sud di Sant'Alessio Siculo, Sant'Alessio che è incastonata, vedete, in queste colline, colline che poi nella parte sommitale portano a un altro comune molto caratteristico, ovvero forza d'agrò, che vedete lassù in alto arroccato sopra la collina. Piano piano ruotiamo ancora di più e così completiamo il nostro 360 gradi ormai, cari amici di Facebook. È diventata una nostra piccola consuetudine, un piccolo appuntamento quasi quotidiano, una panoramica dei nostri luoghi della riviera Ionica, più belli che in questo angolo di Sicilia vi possiamo offrire. Bene, è tutto, grazie e naturalmente buona giornata a tutti.